Esordo vincente per l'impre di Follonica nel primo turno di Europa Cup, battuto il Montreux per 5-3. Enrico Mariotti, una partita non semplice ma si sapeva, squadre materasso non esistono più. Il Montreux ha fatto la sua partita, nel secondo tempo però il Follonica è venuto fuori dalla qualità e la determinazione della tua squadra e ha portato a casa la vittoria. Sì, abbiamo giocato un'ottima partita con il piglio giusto, con l'approccio giusto, con personalità, con la cattiveria giusta. Io sono molto molto contento della partita di stasera perché non era facile da affrontare vista l'eliminazione, un turno diretto dove si pensa normalmente a fare buon bottino, una buona riserva di gol. Invece queste competizioni vanno giocate su due partite con molta attenzione, non ci siamo mai persi anche nel momento che siamo andati in svantaggio. Abbiamo giocato veramente da squadra matura e questo è quello che vogliamo vedere tutti. I ragazzi stanno entrando nell'ordine di un gioco che ci ha sempre appartenuto, il risultato lo dice, poi è anche un risultato forse un po' stretto però il Montreux è una squadra che si presenta con tre spagnoli e un portoghese, voglio dire, di Svizzero c'ha poco di conseguenza. Sapevamo di affrontare i giocatori che hanno esperienza internazionale di campionati importanti come quello spagnolo o portoghese e ce l'hanno dimostrato che sono una squadra temibile e non è finita. Sarà molto molto difficile la partita di ritorno in casa loro. Con Follonia increscendo dall'inizio della stagione, cosa ti è piaciuto di più stasera oltre naturalmente alla vittoria? Credo che in questo momento abbiamo raggiunto non ancora il top fisico però si vede una squadra molto più sciolta, più reattiva, con cambi di ritmo, difensivamente molto più attenta. È stata stasera, abbiamo concesso veramente poco, i gol subiti ci stanno, una punizione di prima, un rigore. Lì a volte ti va bene, a volte ti va male, ma la serenità e la tranquillità con il quale abbiamo affrontato questo primo turno di Coppa e credo che questo deve essere il nostro credo e il nostro punto di partenza, stare tranquilli e sereni e dare il 100%. Pochi giorni e sarà di nuovo campionato, arriva il trissino da capolista, che partita ti aspetti? Beh, è una partita molto difficile, il trissino in questo momento è la capolista e sta dimostrando di meritarsi di stare lì, ha giocato un'ottima partita contro il Forte dei Marmi, è una società che ha speso tantissimo, lo sanno anche loro, sono obbligati a vincere e quindi noi dobbiamo stare tranquilli, giocare secondo le nostre caratteristiche, le nostre possibilità con coerenza e con intelligenza, voler fare di più si può inciampare, quindi allungare il passo della gamba a volte ti fa cascare, noi bisogna stare tranquilli, come abbiamo fatto stasera, a quel punto siamo una squadra che può competere, e può regalare partite come quella di stasera. Complimenti. Grazie a voi.